Detto sinceramente non credevo che avrei fatto un altro episodio di questa serie, ma grazie alla vostra grandissima collaborazione eccovi un'altra top 5 milioni di giocanti su Clash Royale. Ma prima di iniziare a vedere questa fantasica top 5 saluto alcuni tra quelli che ieri hanno effettivamente scritto hashtag mannaia sotto nei commenti. Quindi ciao Massimo Flaminio, ciao Riccardo Magnani che scrive hashtag mannaia viva Carmela così senza senso, e infine ciao The Monster Craft che scrive hashtag mannaia qualche giorno vengono a te per mangiare il polpetto di inizia Carmela. Guarda te lo sconsiglio vivamente. Fate attenzione perché all'interno del video metterò l'hashtag per tentare di essere salutati in un mio prossimo video. Detto questo buona visione. Al quinto posto abbiamo il signor LOL degli Agnelli Crew contro Blab del un clan che non riuscirò mai a leggere anche perché purtroppo mi ha inviato il replay sul Facebook ad una risoluzione non altissima. Siamo in Arena Royale e sono già un livello 7 contro un livello 8. Abbiamo comunque una tecnica basata su Gigante Royale e anche i Barbari Scelti. Vediamo subito che sta leggerissimamente in svantaggio, ma ragazzi c'è un motivo, sono scelto questo replay. Accumula l'Isir e inizia subito con dei Barbari Scelti che iniziano a fare i loro sporchissimi danni. Ragazzi fin dall'Arena ovviamente Royale i Barbari Scelti hanno sempre portato distruzione ovunque. Si è fatto distruggere una torre per prenderne una da parte sua. Quindi ragazzi siamo pari in questo momento, anche se quel minatore sta facendo leggerissimamente un po' di danni. Attenzione, continua a fare i danni con il Gigante Royale. E fate davvero molta attenzione a quel Gigante Royale perché vi assicuro che ne vedrete delle belle alla fine. Ho scelto questo replay perché ragazzi, anche stare contro un avversario più forte, che è visibilmente più forte, crea un attimino un po' di panico interno. Panico che non è stato un attimino subito dal signor LOL degli Agnelli Crew. Comunque dai, davvero ragazzi non posso non ridere agli Agnelli Crew, è troppo bello sto nome. Ragazzi vedete la torre sta a 23 di vita, ma attenzione a quello che accade in questo esatto momento. Manca davvero pochissimo. Il nostro avversario, quindi il signor Blub, ha la zappa in mano, potrebbe vincere. E invece guardate ragazzi, guardate cosa fa. Ha appena davvero zappato quel Gigante Royale. Ragazzi ho scelto questo replay perché le migliori giocate spesso avvengono nel non sbagliare nel momento del bisogno. Al quarto posto abbiamo il signor Zoppo30 dei... Dei che cazzo è? Colorno Crew, ma perché tutti stanno nelle Crew? Non ha senso. E lo vediamo quindi in Arena 8, credo adesso 8 sì perché la 9 è la selvaggia che deve uscire, quindi la 10 è quella leggendaria. Ho scelto questo replay come replay effettivamente al quarto posto perché se notate dopo davvero pochissimo tempo, manco un minuto, la torre centrale del signor Zoppo sta davvero zoppicando in quanto effettivamente sta già a 763 di vita. Ma adesso sta tutto nel recuperare quanto effettivamente ha già perso. La tecnica dell'avversario sta nel far sprecare comunque frecce, zap o robe simili all'avversario attraverso quindi o l'orda di scheletini o l'orda di scheletri per poi effettivamente andare a scagliarli contro l'orda di scheletini o appunto l'orda di sgherri. Ragazzi, davvero è davvero figo questo replay perché guardate sa tutto il tempo a tentare di non perdere quella torre centrale, ma nel frattempo grazie al domodore di cinghiali e grazie comunque alla sua abilità nel combattere riesce sempre comunque a resistere. Guardate anche la fireball dell'avversario che tenta di buttare giù quella torre centrale che rimane a 93 di vita, gli scaglia tutto contro, davvero non curante di quei barbari scelti che in realtà lo fanno perdere 3 a 1. Qui ragazzi abbiamo avuto proprio il chiaro esempio di come il signor Zoppo30 è riuscito allo stesso tempo a stradifendersi da una partita ormai persa 3 a 1 e invece a riuscire a vincere ragazzi 3 a 1, cioè davvero da quella partita ormai persa abbiamo un recupero pazzesco che lo fa a vincere addirittura 3 a 1. E al terzo posto ragazzi abbiamo un compatriota, se così possiamo definirlo, ossia Chris del clan Girignacri che sarebbe il clan appunto del canale, il mio clan. Un livello 10 contro un livello 11 ed è anche il motivo per cui ha mandato almeno 4 volte l'emoticon, esatto questa è tipo la quinta, l'emoticon un attimino incazzata perché ovviamente la differenza di carte tra un livello 10 e un livello 11 è davvero tantissima. L'avversario ha delle tecniche davvero molto strane mentre invece quella del nostro Chris si basa su Gigante Royale e alla fin fine dietro tipo robe come per esempio gli sgherrettini oppure gli arcieri. Vediamo comunque sia che l'avversario ha sia il Golem sia i barbari scelti sia davvero un sacco di carte alquanto infime all'interno del proprio deck. Golem livello 4 sganciato contro il signor Chris, vediamo un super minatore che adesso è davvero ma davvero molto utile al fine di buttare giù con la torre. Guardate per far fuori quel Golem purtroppo ha dovuto lasciare un attimino perdere i barbari scelti dalla lane opposta e questo è forse stato il problema dell'avversario. Che ragazzi allo scadere del tempo guardate come perde quella torre. Davvero con una zap finale non ho parole ha davvero rectato l'avversario livello 11 con una zap davvero non so quella infima quella bastardina più bastarda del sapore che ti lascia in bocca due giorni dopo il polpettone di zia Carmela. Per tentare di essere salutati in un mio prossimo video dovete scrivere qui sotto nei commenti hashtag siluro e ovviamente lasciare like altrimenti il programma che ho settato appositamente non vi estrae. Al secondo posto abbiamo il signor Simple ossia un player semplice che però si diverte a distruggere gli avversari. L'avversario XXL parte subito con un pecca il mago e anche un lord di sgherri ma il nostro fantastico Simple niente perde una torre così come se nulla fosse ma a lui ciò non turba perché ragazzi questo secondo posto l'ho scelto per una strategia in particolare che mi è piaciuta davvero tantissimo di questo deck. Infatti non ne sono davvero tanti i player che in cui utilizzano lo specchio e lui fatemelo dire lo utilizza davvero benissimo. L'avversario XXL ovviamente parte sempre comunque con pecca dalle retrovie con dietro un mago anche livello 5 e quindi ragazzi adesso vedete quello che fa è davvero pazzesco doppia orda di scheletrini anche per contrastare il mago e ragazzi questa tecnica funziona. L'avversario va anche a infuriare tutta l'orda di sgherri ma nulla il nostro Simple è semplicemente non impaurito da questa tecnica che davvero sgancia l'ira divina contro quella torre e porca miseria e caduta davvero più velocemente dell'intestino dopo che mangi il polpettone di Agarmela. Sembra il notevole svantaggio all'inizio perché effettivamente lo è e non ci sono dubbi su questo ma ragazzi continua davvero a dar filo da torcere al signor XXL. Si riparte ragazzi si riparte con Valkyria con dietro doppio moschettiere e ragazzi qui il nostro Simple ci fa questo favore di rallentare il tutto per farci vedere come come ragazzi butta giù in un nanosecondo quella torre. Davvero una roba pazzesca stava perdendo amaramente ma grazie allo specchio che davvero chi utilizza lo specchio c'è davvero hanno messo nel dimenticatoio la torre dello specchio ma lui li ha riesumati e ha davvero rectato l'avversario che porca miseria non giocherà mai più a Clash Royale dopo sta sconfitta. E al primo posto abbiamo nuovamente un compagno del clan infatti abbiamo il signor 9600 Pro contro il signor Mojo Jojo che ragazzi non so fa più paura di Majin Buu questo nome. Comunque livello 10 contro livello 11 ed ha fatemelo dire delle carte molto alte questo livello 11 quindi è davvero notevole la differenza tra i due player. Subito quel minatore livello 2 che fa fuori quella principessa livello 2 ma anche lo spirito di ghiaccio livello 10 che salva la situazione da qualsivoglia danno. Strega livello 5 da davvero lontanissimo per poi buttare avanti un gigante reale livello 12 che fatemelo dire mi sono impaurito io che non sto giocando nei confronti di queste fottutissime carte. Ragazzi davvero tantissimi danni in pochissimo tempo quelle truppe fanno davvero malissimo. Mando a per due questo replay anche se non se lo merita ma purtroppo questo video sta andando un attimino per le lunghe. Abbiamo un attimino una situazione di svantaggio da parte del nostro player 9600 Pro che continua a buttare anche una Fireball per andare un attimino a danneggiare quella strega livello 5. E continua sempre e comunque sulla torre di destra nonostante la sua torre di sinistra abbia un attimino di danni. Ragazzi guardate ha appena buttato una torre ordani scheletrini guardate adesso quello che accade è davvero sensazionale. Riesce a buttare giù quella seconda torre a distanza di davvero pochissimi secondi. Si becca anche una bella giocata perché si è conservato ragazzi fatevi vedere si è conservato l'ordani scheletrini fino all'ultimo. In modo tale che fosse l'arma segreta l'arma finale l'arma definitiva per buttare giù quella seconda torre all'avversario. L'avversario non se lo aspettava mentre è stato proprio questo che ha davvero sconvolto la mentalità di Mojo Jojo. Che minchia di nome è Mojo Jojo però dai. Chi ha inevitabilmente perso in una battaglia in cui lui aveva il coltello dalla parte del manico. Ma ragazzi si è strafitto da solo con questa sconfitta da parte del non so 9600 Pro che si aggiudica il primo posto in questa top 5 migliori giocate di Clash Royale della settimana. Comunque il nome è troppo lungo eh cioè dobbiamo cambiarlo. Di conseguenza per questo video è effettivamente tutto. Se questo video vi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto per questo e davvero tanto altro ancora. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!